5 ottobre 2021, giornata mondiale dell'insegnante. Siamo qui con l'artista Lucia Sardo che aprirà la nostra manifestazione nella mattina di giorno 5. Lucia, in apertura, cosa augurerebbe ai docenti e agli insegnanti in questa giornata importante dedicata a loro dopo due anni di difficilissima pandemia? Cosa augurerei? Augurerei di fare quello che avrei augurato anche senza pandemia. Io penso che l'insegnante deve avere una grande passione per il proprio lavoro, deve avere una grande conoscenza della psiche umana, deve amare i ragazzi, li deve amare e chiaramente non deve mettersi al livello dei ragazzi. Molti insegnanti sbagliano perché hanno dei conflitti, delle ferite della loro infanzia e un ragazzino un po' diverso, un po' strano, un po' vivace, le mette in contatto con questa ferita, quindi si abbassano al livello del ragazzino. Allora la cosa importante è centrarsi, come diceva Franco Battiato, cerco un centro di gravità permanente, cercate il vostro centro e metteteci la passione. Laddove state male, laddove non ce la fate, mettete la passione, quella ci salverà, salverà il mondo la passione. Lucia, parlo ora alla studentessa che sei stata. Che esperienza hai avuto nella scuola, più positiva o più negativa? Quali sono i tuoi ricordi degli anni di scuola? Allora io non ho amato per niente la scuola, adesso in questi giorni sto leggendo l'autobiografia di Woody Allen, che anche lui è un sagittario come me, racconta più o meno le stesse cose mie. No, non ho amato tantissimo la scuola, mi innervosivo, mi irritavo, non sopportavo lo stare fermi, cioè i ragazzi, le ragazze, sono dei pacchetti di energia, è una crudeltà mentale tenerli seduti, io dico sempre dovremmo muoverci tantissimo fino ai 40 anni e poi fermarci, e invece si costringono questi ragazzi a stare seduti, io non sopportavo di stare seduta, e poi avevo tanti altri sogni, tanti altri desideri, tante altre ambizioni che non corrispondevano, niente mi corrispondeva a scuola. Oggi gli insegnanti sono molto diversi, ma una volta l'insegnante era proprio, era duro, più autoritario, autoritario stupidamente, perché tu dicevi posso uscire? No, perché? Perché te lo dico io? e chiaramente io era la ragazzina, rispondevo, e lei chi è? Perché deve sapere? Lei è quello di cui ho bisogno io, e uscivo lo stesso, poi avevo sei incondotto. Ma non ero una ragazzina, ero vivace, ero simpatica, molto piena di energia, però non ero maleducata, mettevo gli insegnanti proprio davanti alle loro responsabilità, come dire, ma come ti puoi permettere di non farmi andare in bagno se io ci devo andare? E se anche non dovessi andare in bagno, ho bisogno di uscire, di muovermi, sono stata sempre un'iperattiva. Tu perché mi devi vietà? Perché questa crudeltà, questa cattiveria? Quindi ci vuole più autorevolezza e meno autorità sicuramente. Io penso che un insegnante che abbia autorevolezza, che abbia una buona relazione con se stessa, con la propria forza, con le proprie radici, con il proprio appoggiare per terra, non ha bisogno di urlare. Lucia, un'altra domanda sempre sui tuoi anni di scuola. C'è comunque un insegnante che ti ha assegnato in qualche modo, sia nel bene che nel male? Sì, sì. Raccontaci qualche anelio. E l'ho rivalutata dopo. Era un'insegnante molto severa, molto severa. Poi mi hanno detto che invece in vecchiaia era diventata dolcissima. Dico, ma chi? Non faccio nomi. Era severissima, molto dura. Poi con me particolarmente dura. Avevamo proprio dei conflitti forti. Però mi ha passato la sua passione. Lei amava la letteratura, veramente. Era una donna non sposata, non aveva chiaramente figli, non aveva affetti. Quindi tutta la sua vita ruotava attorno alla letteratura. Non ci costringeva a leggere libri, assolutamente. Ce li faceva amare, ce li leggeva in classe. Poi aveva una voce stupenda. Lei leggeva, teatralissima. Secondo me sarebbe stata una splendida attrice. Io mi ricordo tutte le sue letture di Dante, del Manzoni. Leggevamo tutto in classe, ma leggeva lei. E poi ci passava dei libri e ne parlavamo. Ecco, mi è passato la passione per la lettura. E questo la devo veramente ringraziare, veramente ringraziare tanto. Nella mattinata parliamo con i docenti di precariato, dei loro lunghi anni di gavetta prima di entrare in ruolo. Quindi anni di sacrifici, di lontananza dalla famiglia. E un po' rivedo delle analogie rispetto al lavoro dell'artista. Qual è la gavetta o il precariato di Lucia Sardo nel suo settore? Allora, gli attori sono sempre precari. Perché da un film all'altro, da uno spettacolo all'altro, interviene il precariato. Noi delle volte possiamo lavorare ininterrottamente per quattro mesi, come pazzi, distrutte, e poi non lavorare per un anno. Quindi entriamo nel precariato. E il nostro lavoro è cercare lavoro. Quando voi lo abbiamo trovato, lavoriamo. Quindi conosci bene, insomma, quei sentimenti, quegli stati d'animo. Assolutamente, questa enorme insicurezza. Poi, considerato che noi attori siamo una delle poche categorie esistenti al mondo che amano il loro lavoro. Cioè, se non lavoriamo stiamo male, siamo malati. E ancora peggio. E ancora peggio. Quindi abbiamo un'insicurezza anche economica. Perché puoi guadagnare tantissimo in un mese e non lavorare per un anno. Lucia, mi aggancio a quello che stai dicendo per chiederti qualcosa di più sul tuo lavoro di counselor. Perché so appunto che ti occupi anche di questo. Tu prima, fuori onda, diciamo, mi dicevi che il vostro, il tuo obiettivo da counselor è quello di aiutare le persone a trovare i propri obiettivi. In che senso? Allora, io parlo di successo, di ottenere il successo. Ma il successo non è i fari accesi, un palcoscenico, non è questo. Il successo è un participio passato, fare accadere delle cose. Per ognuno il successo è diverso. Non lo so, per una donna che non può avere figli il successo è poter avere un bambino. Ora, non è che io sono magica. Quando faccio questi laboratori, la prima cosa che scopro è che tante persone non hanno chiaro l'obiettivo. Si lamentano. Molte persone dicono che non riesco, non ce la faccio, mi ammazzo di lavoro eppure non ottengo mai risultati. Ma perché non ha una direzione? Se non hai un obiettivo chiaro, una direzione chiara, molte volte i nostri obiettivi, le nostre direzioni, in realtà non sono nostre. In realtà i nostri obiettivi sono obiettivi di mamma, di papà, dell'ambiente in cui viviamo. Quando poi viene a fare questo lavoro con me, come dicevi, E chiaramente avere un maestro è importante perché noi possiamo meditare su noi stessi, è chiaro che funziona, ma è anche importante che qualcuno dall'esterno veda. Diceva un grande maestro, per quanto forte tu possa essere non ti puoi prendere in braccio. Quindi c'è sempre bisogno di qualcuno che ti aiuta a passare. La prima cosa che mi accorgo è che, che poi se ne accorgono anche loro, è che non hanno chiaro l'obiettivo, non lo sanno. Perché già da piccoli sono stati convinti di cose. Quindi andiamo a ristabilire, lavoriamo molto sul bimbo, sulla bimba. Andiamo a ristabilire quali erano questi desideri, cosa voleva questa bambina, questo bambino. Quindi ristabiliamo le priorità nella vita delle persone. E allora poi lì è facile, poi lì è facile. Il lavoro più difficile è andare a capire veramente qual è il tuo obiettivo. Una volta che, ma quello vero, perché tanti sono convinti di avere un obiettivo, poi nel pieno del lavoro scoppiano a piangere e dicono a me non me ne frega niente. Io ho una carissima amica che è stata una grande architetta, bravissima, e un giorno ha scoperto che non gliene fregava niente. Non era la sua vocazione. Lo faceva per papà. E quindi tu vai al lavoro la mattina, hai anche dei successi in questo lavoro, ma non stai bene, sei infelice, non capisci perché. Ti senti anche ingrato, no? Perché dici, ma come, ho raggiunto tutti gli obiettivi, guadagno bene, ho successo. E c'è quella frustrazione. E io sono infelice. Perché non era la tua strada. Ti sei convinto o ti hanno convinto? Grazie Lucia. Una domanda invece alla Lucia insegnante stavolta, perché so che hai una scuola di teatro, quindi come ti rapporti con i tuoi alunni? E se c'è, come avviene nelle scuole, quell'esigenza di motivarli, di trovare strategie, per motivarli, oppure se vengono da te già con un'alta motivazione? Quindi vediamo anche lì dei parallelismi con il lavoro dell'insegnante a scuola. Solitamente vengono con un'alta motivazione. Poi scopriamo che non è una motivazione reale, nel senso che magari non vogliono fare gli attori, ma vogliono essere visti. È diverso. L'attore è qualcuno che non è stato visto. Molti attori sono stati ignorati, esclusi. E allora chiaramente si mettono in primo piano, oh mamma, sono qui, mamma, si mettono i fari, papà, insomma. Quindi già scopriamo che tanti non gliene frega niente di fare l'attore, ma hanno bisogno di essere visti. E quindi facciamo anche un lavoro di altra natura. Io faccio questo lavoro con i miei ragazzi, perché molti hanno tanti talenti, sono bravi, però non vanno da nessuna parte. Quindi gli faccio scoprire qual è il loro vero obiettivo. Per cui, ok, io ti insegno delle tecniche teatrali, e quelle sono delle tecniche, e poi però cosa ne fai? Anche se adesso le utilizzi benissimo, ma dove vai? Dove vuoi andare realmente? Come le porti nella vita, praticamente. E poi il mio metodo è un metodo... Mi piace fare un'analogia, mi piace... È come se ci fossero tanti fiori, diversissimi fra loro, in una serra. Per me il metodo tradizionale mette la stessa temperatura per tutti. E quindi ci sarà il fiore che esploderà, sarà bellissimo, pieno di profumo, e ci sarà quello che morirà. Io ho la presunzione di dire che osservo ogni fiore. E ho la presunzione di dire che, almeno tento di fare questo, poi non so se ci riesco sempre, che ognuno scopre la propria fragranza. Perché non c'è un fiore più bello dell'altro, o più profumato dell'altro. Ci sono fiori diversi fra loro, sono tutti, siamo tutti diversi. E quindi, se tu sei un garofano, io posso fare la pazza, ma non ti farò diventare mai una rosa. Allora cerchiamo di utilizzare le cose più belle del garofano, il profumo del garofano, il colore del garofano, la fierezza, la staticità del garofano. Non può essere mai come una rosa. rientri nelle sensibilità di ognuno, di ogni ragazzo. E' chiaro, per cui ci sarà il ragazzo che avrà bisogno di una sgridata, se no non si muove. Perché purtroppo quelle sono le sue... L'indole un po'. No, l'indole è come è stato abituato, come è cresciuto. E c'è il ragazzo che se lo rimproveri lo uccidi, non fa più niente. E quindi ogni tanto qualcuno mi dice eh, ma lui lo tratti sempre bene, a me... Perché? 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 Ma chieditelo tu perché ti tratto così. Perché? Per certi versi hai bisogno che io ti dia una sculacciata, un po' come il maestro Zen, che ogni tanto dà il colpo di... Di frusta. Per farti vedere il qui e ora. Guarda cosa stai facendo. Guardalo. Puoi non chiedere a me di farti la carezza. E cosa pensi del mestiere dell'insegnante? Cioè quanto appunto... Quanto ti gratifica questo aspetto del tuo lavoro? Ma guarda, il mestiere dell'insegnante, sia nel mio lavoro che nella scuola pubblica e privata, è il lavoro più bello del mondo. Cioè tu hai a che fare con le anime, tu hai a che fare col futuro, hai a che fare con la possibilità. Cioè per un allievo che cambia vita, che cambia il suo stato emotivo, tu hai già fatto il massimo. Miracoli. Miracoli. Non so chi era... Forse era la poetessa inglese che io adoro e che non mi ricordo il nome stamattina, perché di mattina i nomi non vanno. Emile Dixon. Credo che fosse lei in una poesia che dicesse mi basta solo che una persona cambi, mi basta solo il profumo di un fiore. Insomma adesso non mi ricordo, ma ha a che fare con questo tema che ho detto io. Va bene, la recupereremo questa poesia. La recuperiamo questa poesia. Mi basta toccare qualcuno, insomma, per dare un senso alla mia vita. Quindi è quale è il lavoro più bello di quello degli insegnanti? Grazie Lucia. In chiusura ti chiedo del lavoro teatrale di cui si sta occupando tuo figlio, perché so che ha portato già nei teatri un tema rilevantissimo nelle scuole, che è quello degli Ikiko Mori, di cui insomma nelle scuole si inizia a parlare, specie in rapporto alla pandemia, perché c'è un aggravarsi di questa situazione. So che l'intento è quello di portarlo nelle scuole, ma dici tu di più di questo progetto. Allora, intanto gli Ikiko Mori, per chi non lo sapesse, vuol dire i ragazzi ritirati, quei ragazzi che si sono ritirati dalla vita, dalla vita sociale ovviamente, non dalla vita, dalla vita sociale, che stanno chiusi in una stanza davanti a un computer e che rifugano proprio le relazioni sociali. Questa è una produzione della nostra associazione e l'attore, colui che ha scritto questo testo, che recita insieme ad altri due attori, questo testo è mio figlio e noi ci teniamo tantissimo a portarlo nelle scuole, ma veramente tantissimo, perché il fenomeno Ikiko Mori, che all'inizio è un semplice malessere e che può essere subito, subito risolto, se si trascura diventa una malattia, si incancrenisce, si incancrenisce e diventa una cosa veramente pericolosa, pericolosissima, perché può durare dieci anni, quindici anni. Noi puntiamo molto sulla prevenzione, questo spettacolo dovrebbero vederlo gli insegnanti, i genitori e naturalmente i ragazzi, gli studenti, proprio per vedersi o per vedere qualche loro compagno che fa questa cosa qui, perché non c'è niente da prendere proprio sotto gambe, la situazione è molto grave, soprattutto dopo la pandemia, è esplosa in tutto il mondo, lo so perché sono stata come sai tre mesi e mezzo in America, a Los Angeles e parlando con degli amici in Los Angeles è esplosa veramente, non è che è esplosa, perché esisteva già, solo che adesso sono diventati quasi tutti Ikiko Mori. Certo, Lucia, a questo proposito poi tu ci dirai come le scuole che volessero insomma vedere, assistere a questo spettacolo, come fare, ci segnalerai tu? Sì, poi ve lo faccio sapere. Vi faremo da intermediari, sarà un piacere se possiamo attenzionare la problematica. Adesso noi a ottobre saremo a Roma perché c'è un convegno nazionale e Gioacchino, mio figlio, allora mio figlio ha questo, non è che l'ha studiato, è stato un antropologo, è andato sul capo, nel senso che lui è stato... L'ha vissuto, quindi. L'ha vissuto per diversi anni, perché ci possono essere delle motivazioni anche banali, come dire, nemo profeta in patria, io aiuto gli altri, educo gli altri e poi proprio mi chiedo perché questa cosa sia accaduta. Che ha toccato anche la famiglia. E probabilmente perché devo essere strumento anche per gli altri e quindi l'abbiamo vissuta... In questo modo, in modo positivo e propositivo anche. Dopo, prima no. Dopo, certo. Prima no, perché i genitori... è un dolore immenso per i genitori. Io faccio parte di un gruppo genitori italiani, è un dolore, è veramente una disperazione, perché non riesce a fare niente, perché questi ragazzi non accettano nessun aiuto. Non escono, non mangiano, cambiano il giorno con la notte, non accettano... e quando accettano, quando accettano, questa è la nostra esperienza, quando accettano di farsi aiutare, purtroppo gli psicologi, i terapisti non sono informati, non la sanno questa cosa. Non sanno di che si tratta. Quindi adesso nel movimento, insomma, ci sono degli psicologi che si stanno formando, ma si stanno formando frequentando molto i ragazzi. Certo, a partire da... E diciamo che mio figlio è diventato una specie di punto di riferimento e lo invitano nei convegni, proprio perché lui racconta e dice cos'è la cosa che non bisogna. È un testimone. È un testimone. Per cui dico, adesso insomma, siamo stati per anni, perché è durata molti anni, la storia di mio figlio. Adesso finalmente ne posso parlare, perché prima mi avrebbe uccisa se io dicevo questo. Per cui sono stata sempre defilata. Adesso ne parla anche lui, quindi finalmente mi sono liberata. Perché io so perfettamente che possiamo aiutare molte famiglie, ma anche molti insegnanti, perché gli insegnanti hanno una responsabilità enorme in questo... Ambito, insomma, possono agire. Possono veramente fare la differenza agli insegnanti, veramente. Laddove non esistono le famiglie, laddove ci sono problemi, l'insegnante veramente si può mettere al servizio di questa causa. Quali sono i tuoi progetti nell'immediato futuro o comunque dove ti potremo vedere noi? Allora, ci sono due progetti, uno lavorativo e da stasera il mio nuovo film si chiama Sulla giostra. Le protagonisti siamo io e Claudia Gerini. Penso che sia veramente un bel film, una bella storia di due... dell'incontro di queste due donne totalmente diverse. Insomma, non vi racconto perché ci sono dei colpi di scena. e da stasera è nei cinema italiani, so che lo fanno a Catania, però a Catania mi pare che lo facciano domani. Ok, allora è un appuntamento che prendiamo. Però insomma, si chiama Sulla giostra, andatelo a vedere. Invece personale, sto andando in vacanza, finalmente, forse farò un bagno quest'estate. Quindi entri nella fase del precariato, però felice. questa è vacanza, ancora non sono precaria. Questa è vacanza, dopo la vacanza entro nel precariato. Va bene Lucia, grazie mille per il tuo intervento. Grazie a voi, grazie a te.